Eccoli qui abbiamo allora la lampo con le chiere, con l'impresa di estrazione e lavorazione del maseglie e poi abbiamo tanti lavoratori impegnati in questa cava, li vedete con la scritta sulle spalle della cava, cavallato. Avanti, avanti, venite, venite, la giuria sta aspettando di vedermi qui davanti a Falco, ci sono posizionati i nostri giurati. Questa è la palla della fila di Santa Barbara, sono la trama largo di Santa Barbara, la fascina nuova. Questa è la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara. Questa è la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara. Questa è la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara. Questa è la palla della fila di Santa Barbara. Questa è la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara, sono la palla della fila di Santa Barbara. e quindi li vedete già all'opera mentre sono subito le indicazioni di Michelangelo mentre qui davanti alla giuria sta filando ancora il gioco delle statue di TDS della campagna Blanco guardate che le statue salutano la giuria, eccolo qui complimenti anche a questa bella di Stati Aquilanti, molto bella ci sono tanti bambini oggi che sfideranno e sono davvero bravi perché per completare il corso mascherato ci vuole tanto tempo e loro sono bravissimi a seguire le coreografie e tutte le indicazioni delle compagnie andiamo avanti anche voi Stati, così accogliamo anche qui davanti alla giuria il nostro gruppo con Michelangelo ecco qui anche le nostre statue della Lago proseguono a questo mascheraggio mentre come scenetta arriva Michelangelo e la squadra di Apprendisti ecco lì qui e c'è un muro di caldo, ecco le pietre labiche che sta già filando subito dopo e poi c'è un po' che raccoglieremo davanti alla giuria avanti Michelangelo, sta andando bene, eh? si stanno aspettando? bella, bella, dai stanno facendo pietà? no, dai, sta venendo bene bravi, bravi tutti gli scalpellini eccoli qui, ciao bene Schr entsprechò vento arriva per un'altra sceletta che è l'eruossione del vulcano con i lapini e le pietre labiche che i muscolari che avevano pietrificati, questi romani che avevano pietrificati dalla lama che sta scendendo dalla buca. Eccola qui, la lama che copre tutti i romani in giuria a pensare, questo è tutto dell'eruzione del nucleo con la pietra lapica. E anche qui ci sono tante belle notte, facciamo un'ottima ricettura a tutti i bambini che stanno assicurando oggi. E' un'ottima ricettura a tutti i bambini che stanno assicurando oggi. Grazie a tutti i bambini che stanno assicurando oggi. Grazie a tutti i bambini che stanno assicurando oggi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.